Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni a media e lungo termine. Andiamo a vedere come si chiuderà la terza settimana di maggio, periodo 21-23 maggio. E guardate, ancora una volta, specie il nord Italia, dovrà fare i conti con molta variabilità. Continua questo flusso di correnti atlantiche, stavolta nord-atlantiche, che spingono dei sistemi nuvolosi verso appunto le regioni settentrionali, dove resterà alta anche la probabilità di piogge e acquazzoni. Magari fenomeni anche di breve durata, alternata delle schierite, però ripeto, variabilità, resta la parola d'ordine. Meglio al centro-sud, soprattutto nelle regioni meridionali, dove tra l'altro anche le temperature potrebbero raggiungere valori davvero molto, molto miti. Ma per vedere se tutto sarà confermato o meno, vi aspettiamo su trevimeteo.com o scaricate la nostra app gratuita.